Questa visione deve presiedere all'organizzazione della sanità, perché ne va, ripeto ancora una volta, della dignità della persona e del suo benessere, del suo benessere totale, fisico e spirituale. Quindi qualsiasi organizzazione si possa pensare deve però mettere alla sua base questi principi. La questione della sanità intendo il problema della cura, cioè del prendersi cura della popolazione, soprattutto delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione e della capacità da parte delle pubbliche istituzioni e dello Stato in primo luogo di rispondere a queste esigenze e di andare incontro a tutte le persone che hanno uguale diritto ad essere curate e possibilmente guarite. Però è facile dire tocca agli altri e questo quindi ci esclude da una nostra responsabilità che abbiamo in maniera differenziata anche a questo riguardo, soprattutto quello del prendersi cura, cioè di prendersi a cuore le situazioni altrui. Certamente anche il governo ha la sua parte e la saprà fare, immagino.